buongiorno presidente buongiorno temi innovazione digitalizzazione tecnologia in sole tre lettere ssg il nostro scopo portare semplicemente il futuro a casa vostra come innovando facendo le cose vecchie semplicemente in un altro modo munendo le vostre risorse interne degli strumenti utili a velocizzare snellire e proteggere le vostre attività e tutto questo assicurandovi un consistente risparmio e come cambiare visore sulle cose cambiare radicalmente prospettiva in altre parole dare a questo sky sky solution group grazie a tutti